Presidente, però da quello che lei dice quindi mi sembra di poter capire e dire che se non ci fosse Salvini lei starebbe ancora alleato con Berlusconi. Siamo su scherzi a parte, non siamo a Repubblica TV. Da quello che ha detto. Io mi sono diviso da Berlusconi ben prima dell'esistenza di Salvini, ma scusi, lei mi ha chiesto una cosa e ho detto che il centro-destra di oggi è profondamente diverso dal passato. Io mi sono diviso da Berlusconi quando ho capito che le sue ricette applicate al governo erano un pasticcio per l'Italia, lo sanno tutti, se no scusi perché me ne sarei andato via. Allora non c'era Salvini all'orizzonte, c'era solo un giudizio assai negativo che io davo dei governi di Berlusconi. Infatti nel 2008 non c'era Salvini, ma io sono stato 5 anni all'opposizione di Berlusconi.